ciao a tutti benvenuti ai risultati del secondo sondaggio che in questo caso è quello che abbiamo fatto circa otto giorni fa sulle spider in e di piccola cilindrata le medie sportivette allora ha vinto ha vinto la mazda mx 5 la seconda serie le altre due erano la toyota mr2 e la terza era la mg tf la seconda arrivata appunto la mr2 la terza arrivata la tf allora vi posso dire questo allora sicuramente le mx 5 è una macchina che non ha bisogno di presentazioni credo la spider più venduta di tutti i tempi è un mito io l'ho considerata nel mio video di qualche tempo fa dove ho fatto la classifica delle dieci auto migliori al mondo e tra le prime dieci quindi sicuramente ha il suo motivo di esistere al cento per cento invece per quanto riguarda il sondaggio io probabilmente avrei scelto avrei avuto molte difficoltà tra l'mr2 e l'mx 5 e poi alla fine dei conti probabilmente avrei preso l'mx 5 scusate l'mr2 che ne ho già avute due ma non perché l'ho già avuto è semplicemente perché per il mio stile di guida si adatta di più l'mr2 certo che se dovessi prendermi un'auto per il solo divertimento assoluto prenderei certamente un mx 5 come secondo terza macchina o me la farei scappare se avessi le possibilità nel garage avere un mx 5 perché è un'auto trazione posteriore col motore davanti è un'auto che è facilissima portarla in traverso in tutte le sue categorie in tutte le sue motorizzazioni anche la più piccola 1.6 anche senza il differenziale autobloccante ci si può divertire e dilettare con dei bei traversini ovviamente è un po più difficile rispetto ad avere l'autobloccante ma se c'hai un attimo di dimestichezza e sensibilità sulla guida riesci sicuramente a mettere di traverso i più non ci riusciranno ma chi ha la possibilità di avere come dicevo prima un po di sensibilità la mettere di traverso sempre comunque poi l'mgtf l'mgtf è un'auto un po a sé secondo me se dovessero fare un concorso di solo a bellezza io sceglierei sicuramente l'mgtf in quanto rappresenta diciamo l'english style con la sua linea proprio che retro motore anche lei centrale trazione posteriore quella linea un po particolare so che a tutti non piace ma a me invece piace moltissimo quindi in un concorso di bellezza sceglierei quella poi c'ha il doppio scarico dietro ingrigliato nel passaruota quella linea un po a cuneo mi piace molto moltissimo l'mr2 a livello di linea ovviamente i giapponesi hanno cercato di prendere un po le linee della più famosa e costosa porsche boxster prima serie e chiaramente si vede è proprio la guida la posizione di guida centrale anche lei motore centrale posteriore la trazione dietro l'mr2 è l'unica che viene nasce e viene venduta da subito senza nessun aggiornamento col differenziale autobloccante il che è già una cosa molto positiva adesso l'mr2 non è un'auto per farci il drift e i traversi anche se molti pensano c'è la differenza autobloccante e ora ci voglio di traverso sì li fa dei driftini dei cerchietti nelle piazze ma buttarla di traverso in una curva è un po diverso dall'mx5 che l'mx5 se ci prendi dimestichezza riesce a farci dei traversi veramente molto 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 notevoli mentre invece con l'mr2 il drift chiamiamolo così per l'mr2 si può tradurre soltanto o in un piazzale o in una curva tipo in qualche tornantone in qualcosa del genere in salita allora ti ci diverti però va anche detto che con l'mr2 io ne ho avute due a disposizione puoi tranquillamente andarci in pista e il differenziale autobloccante non perdi mai la potenza a disposizione quindi è un'auto che ti ci diverti moltissimo io ho avuto la soddisfazione tra le altre cose in un turno in pista nel 2015 di buttarmi in mezzo a due lotus elise prima serie e che mi ha dato molta soddisfazione e in quanto le due lotus chiaramente andavano su un'auto da pista animali da pista e io in qualche modo mi sono riuscito erano due basi quindi i 120 cavalli va detto la mia era un 140 cavalli mi ci sono riuscita a mettere al centro della battaglia tra di loro e ce la siamo giocati per un turno intero quindi sicuramente l'mr2 anche a livello di divertimento e se ti piace andare diciamo in pista ti prendi un'auto con ancora delle cifre abbastanza accessibili siamo sull'ordine delle 7 8 mila euro per la 2000 2002 2003 quella diciamo che soffriva purtroppo del difetto alle fasce elastiche dei pistoni oppure se uno vuole andare sul sicuro invece dai 12 ai 15 si prende l'ultima versione che è il restyling della 2000 che ha praticamente gli hanno eliminato il problema delle fasce elastiche dei pistoni è un restyling non ha quel tipo di problema e ti ci diverti proprio al 100% ed è un'auto straordinaria l'mg tf e rispetto alla più vecchia mgf gli hanno sostituito gli ammortizzatori perché i primi erano idragas quindi non funzionavano proprio bene sì negli anni 90 primi anni 90 andava bene per quel tipo di auto però era chiaramente una soluzione abbastanza sì per i primi anni poteva andare bene ma poi avevano delle problematiche non era mai un assetto incisivo come uno si aspetterebbe gli davano sì un po di sportività e anche la possibilità di quando erano cariche ovviamente si intende di andare anche piacevolmente diciamo nel traffico senza avere la rigidità di quelle auto lì quindi è una macchina che si prestava a tutto diciamo no sia andarci un po sul divertimento un tratto di montagna andarci in strada senza la comodità cioè con un po di comodità con quegli idragas mentre invece sulla tf che è la versione dopo restyling che gli hanno cambiato praticamente la macchina la stessa gli hanno cambiato un po le plastiche davanti i fari davanti dietro gli scarichi e soprattutto la cosa principale è che finalmente gli hanno dato un assetto tradizionale ad ammortizzatore classico con sistema mac person e che finalmente gli davano un assetto comunque funzionale sempre senza problematiche e secondo me a livello di guida era una macchina comunque divertente secondo me meno delle altre due infatti ha perso la sfida anch'io l'avrei fatta perdere effettivamente però alla mia età adesso vi garantisco che se avessi la possibilità di prendermi un mgtf non ne sarei affatto scontento anzi è un'auto che mi piace moltissimo e adesso me la prenderei anche perché comunque diciamo la tf con l'assetto giusto andrebbe molto bene il problema è che purtroppo tutti riscontrano sempre su quel motore rover serie k delle problematiche adesso vai sui 1.800 dal 135 al 160 purtroppo la problematica il pericolo di una problematica reale c'è ma se vai sul 1.600 un motore un po più diciamo affidabile e dava meno problematiche era 120 cavalli era un po meno potente ma ripeto adesso io me la prenderei volentieri una mgtf però diciamo così in effetti il sondaggio è stato giusto che fosse andato così con circa 18 voti è andato bene dai alla fine è quello che mi aspettavo quello è la votazione che avrei fatto anch'io quindi mi trovate totalmente d'accordo vi ho dato una spiegazione con questo ragazzi chiudo il video e al prossimo sondaggio ciao a tutti